Un'idea splendida quella del Salone del Libro di dedicarsi a Gabriele D'Annunzio nel 150esimo anniversario della nascita. D'Annunzio è il padre della modernità italiana, in letteratura, in politica, nell'atteggiamento verso la cultura e la società, la natura e i beni culturali. Quindi noi abbiamo fatto uno stand che lo onora e ci onora essere qui al Salone.